un saluto cari amici di Xtrimardor abbiamo finalmente raggiunto i 1500 iscritti sul canale di youtube per noi è un buon traguardo e un buon punto di ripartenza ringrazio tutti coloro che ci seguono e tutti coloro che si sono iscritti ed è giunto il momento di estrarre a sorte il vincitore del contest pasquale contest che metteva in palio un nas sinology ds 214 se e il vincitore che abbiamo già sorteggiato infatti a vincere questo nas è raluka poenaru raluka che mi scuserà nel caso avessi sbagliato la pronuncia del suo nome e che verrà contattata dalla redazione il più presto possibile dunque complimenti a raluka consiglio a tutti quanti di continuare a seguire il nostro canale perché arriveranno numerosi e nuovi contest con altri premi contest a quale ovviamente potranno partecipare tutti coloro che si iscriveranno al nostro canale e che lasceranno commenti poi pian piano vedrete tutte le varie modalità detto appunto questo vi ringrazio continuate a seguirci complimenti ancora a raluka da angelo dalla redazione di xtrimardor è tutto per adesso un saluto ciao a tutti